Biblioteca Civica di Vipiteno, primo di una serie di incontri tra i dirigenti della ripartizione cultura italiana della provincia di Bolzano e i rappresentanti del mondo associativo. Un'ottima occasione per valutare i risultati raggiunti e condividere le strategie comuni a breve e medio termine in tema di promozione della cultura e collaborazioni tra istituzioni e associazioni cittadini. Il nostro obiettivo è quello di promuovere la cultura e la lingua italiana in tutta la nostra terra. Siamo un territorio plurilingue e pluriculturale, vogliamo che tutti i cittadini possano accedere alle tre diverse culture ed anche avere i benefici dell'essere plurilingui. Per questo promuovere cultura italiana significa promuoverlo per tutti. È importante avere eventi, iniziative, un'organizzazione presente su tutto il territorio, a partire da Vipiteno fino a Salorno, passando per tutte le nostre splendide valli. Per questo abbiamo investito, stiamo investendo con le associazioni dei vari comprensori, come qui a Vipiteno, e vogliamo mettere a disposizione iniziative e sostegno per la cultura italiana, per tutti. La collaborazione tra la provincia di Bolzano e gli enti locali, come ha ricordato l'assessore alla cultura italiana del comune di Vipiteno, Fabio Cola, è di fondamentale importanza per promuovere anche nelle zone periferiche dell'Alto Adige un sostegno alla cultura che coinvolga la popolazione a 360 gradi. Creare rete è senza dubbio molto molto importante. Quella che oggi poi presenteremo di Arci Vipiteno è sicuramente un'iniziativa fondamentale per i giovani. Personalmente sono assessore anche con competenza sui giovani, che andrà ad offrire a tutta la comunità italiana, tedesca, veramente un luogo di incontro che speriamo possa diventare in futuro un punto di riferimento. La visita a Vipiteno è stata anche l'occasione per presentare la nuova sede dell'Arci in via Cittavecchia 26. L'Arci di Vipiteno e il coro Cimabianca sono le uniche due realtà che attualmente beneficiano di contributi per attività culturali da parte dell'Ufficio Cultura e Lingua Italiana. L'Arci propone una vasta offerta di progetti, dalle proiezioni di film alle conferenze e dagli spettacoli teatrali ai concerti. L'associazione partecipa al progetto della ripartizione Teatri Insieme, partito lo scorso anno, che ha l'obiettivo di ampliare l'offerta di spettacoli di qualità sul territorio. La nuova sede dell'Arci ospiterà anche il nuovo progetto Sterzing Music Lab Vipiteno, che punta a fare dei nuovi locali un luogo di riferimento per tutti gli appassionati di musica e gli aspiranti musicisti dell'Alta Val di Sarco. Cerchiamo praticamente di creare un ambiente molto particolare, quindi un salottino adatto per fare sia prove, workshop, stage e anche eventualmente qualche esibizione, concerto, non solo con musicisti locali, anche invitando musicisti che provengono da altre zone o da altri stati. Alla giornata dedicata alla promozione della cultura Vipiteno erano presenti, oltre all'assessore alla cultura italiana Cristian Tomasini e al collega del comune Fabio Cola, i direttori degli uffici della ripartizione cultura italiana, i rappresentanti dell'Arci, del Coro Cima Bianca, del CAI Vipiteno, dell'Associazione Nazionale Alpini di Vipiteno, dell'UPAD, della Biblioteca Scolastica e della Biblioteca Civica. Grazie a tutti.